Dopo la fondazione del Carnevale, il sindaco lascia anche la fondazione Guelpa, però una fondazione Guelpa che ha fatto molto in questi nove anni e che ha grandi prospettive. Sì, lascio la presidenza con un po' di dispiacere ovviamente, però entrambe le fondazioni che ha nominato sono due fondazioni sane con due mission diverse, sicuramente da una parte la fondazione del Carnevale che ha come obiettivo quella di valorizzare questa importante tradizione eporediese, dall'altra parte invece la fondazione Guelpa che in questi anni ha realizzato l'allestimento del Museo Garda, peraltro senza intaccare il patrimonio, ha sovvenzionato iniziative culturali importanti sul territorio ed è stato sicuramente un ottimo motore per la cultura eporediese e della città di Ivrea. Peraltro, come diceva, la sfida del futuro è sulla candidatura di città industriale del XX secolo, candidatura UNESCO, che nelle nostre intenzioni vuole essere anche un motore di sviluppo, nel suo piccolo, nel suo grande, del turismo locale. Questo possiamo chiamarlo esperimento dell'amministrazione comunale, di tenere in incubatrice delle fondazioni può essere un esperimento che diciamo è riuscito? Nel nostro territorio è riuscito, sono tutte fondazioni che chiudono ogni anno con un utile, con degli investimenti fatti, con una gestione di servizi importanti per la cittadinanza. Poi, come sempre, nelle fondazioni bisogna un po' arginare tutte le persone che vorrebbero attingere a questi patrimoni, ma l'importante è garantire la sostenibilità di quello che si apre e di quello che si crea. Per noi è un esperimento riuscito. Abbiamo ancora quattro anni davanti, importanti sfide e speriamo che questo esperimento si confermi. E poi, parlando di bilanci, oggi abbiamo parlato di questo, ne faceva già accenno, l'importante è non erodere i patrimoni, ma valorizzarli e semmai farli crescere, non per sé, non per monetizzare, ma per investire. Assolutamente sì, a parte la regola che tutti i membri del Consiglio di amministrazione, sia quelli del Carnevale, sia della Fondazione Guelpa, non hanno mai percepito alcun monumento e quindi i costi di gestione delle fondazioni sono proprio ridotti all'osso. Ad esempio, con la Fondazione Guelpa, noi abbiamo fatto un investimento di circa 1.800.000 per l'allestimento del museo e tutto questo è avvenuto senza erodere e intaccare il patrimonio che la signora Guelpa ci aveva donato all'inizio. Lei ha parlato di una sfida, di un sindaco che le ha, diciamo così, estorto questa disponibilità portando allo spasso per Ivrea. Sì, il giro è iniziato come per tutti, dalla parte bassa, dall'area Olivetti, che conoscevo personalmente e che in effetti è un vero museo dell'architettura moderna, pieno di possibilità e di potenzialità, anche di riuso, per poi risalire verso l'alto, verso il castello, verso il duomo, scoprendo un Ivrea che ha un centro storico bellissimo, con molte potenzialità, una vista e un ambiente circostante che è l'anfiteatro morenico e le montagne. Per cui la sensazione che possa essere non soltanto la città Olivetti, ma anche una città d'arte e di cultura è evidente. E mi sembra che questo tipo di prospettiva sia la visione che l'amministrazione comunale attraverso il sindaco mi ha comunicato. E poi lei ha parlato di una fondazione, la Guelpa, della quale diventa presidente, che è una vera fondazione e questo è anche importante. È molto importante ed è molto raro, nel senso che la definizione giuridica di fondazione è un patrimonio destinato a uno scopo. Il patrimonio c'è, è importante ed è un patrimonio che non solo c'è, ma è cresciuto nel tempo grazie a un'ottima gestione da parte del costitore di amministrazione, questo è un giudizio che posso dare, dati alla mano, e un metodo di lavoro, di utilizzo del denaro che è quello che le grandi fondazioni americane tanto prese a modello utilizzano, cioè l'utilizzo degli utili, senza intaccare il capitale, ma procedendo e utilizzando le risorse di una fondazione come elemento di un fondo comune che sicuramente non esime dal cercare altri finanziamenti, altre collaborazioni, eccetera. Anche perché lei ha detto che la competenza è importante, ma è importante capire che una fondazione fa un lavoro che deve essere durevole. Sì, e appunto c'è un aspetto economico che è quello del conservare il capitale e accrescerlo, e l'altro è di lavorare non sul breve periodo, non su dei progetti senza pensare alla loro gestione successiva, ma di lavorare in una prospettiva che tanto più in una fase che non è più di crisi, è una fase probabilmente nuova, ci deve guidare a fare delle scelte sostenibili da tutti i punti di vista. Quindi durevole in questo senso vuol dire guardare lontano e pensare che non basta realizzare un progetto, poi questo progetto deve poter durare nel tempo e camminare sulla sua gambe.